1.200.000 euro è questa la cifra che rischia di essere persa definitivamente per il completamento del secondo lotto della strada Fresilia, quello che collega la zona industriale di Frosolone a Civitanova del Sannio. A giocare negativamente sul futuro di questa travagliata e strategica arteria stradale sono le lungaggini burocratiche che tengono incagliate in regione somme che qualora non venissero spese entro il 31 dicembre di quest'anno cadrebbero in perenzione tornando al mittente ovvero allo Stato centrale per prendere altri lidi e direzioni. Quello che è certo è che il Molise, i residenti e le aziende allocati in questa zona perderebbero per sempre questo treno. Un assurdo amministrativo e politico specie laddove tra le carenze strutturali del Molise viene sempre annoverata la rete viaria dissestata e colabrodo. Sarebbe davvero paradossale perdere soldi e opportunità in un caso come questo dove è tutto pronto per la realizzazione dell'opera, un collegamento come ha ricordato bene il sindaco di Civitanova del Sannio Roberta Ciampittiello che può fare la differenza tra la vita e la morte nel collegamento specie per le malattie tempo dipendenti tra i paesi dell'area interessata e i presidi ospedalieri. Per noi questo non è lo sbarramento per il collegamento a Frosolone, è lo sbarramento per il collegamento a Campobasso che è il punto, il cuore nevralgico della regione in cui ci sono tutti i servizi in cui soprattutto c'è l'unico ospedale di secondo livello della regione e quindi mentre inizialmente questo tratto era immaginato per il trasporto delle merci tra la Campania e l'Abruzzo passando per il Molise oggi rappresenta un punto nevralgico soprattutto per i territori dell'Alto Molise, di tutto l'Alto Molise per arrivare in tempi brevi e soprattutto anche in sicurezza a Campobasso perché noi per arrivare a Campobasso dobbiamo attraversare delle strade comunque in frana passando per Bagnoli o Tortuose passando per Frosolone ma ci sono realtà ben più disagiate di noi quali per esempio già la vicissima Pietrabbondante che a 5 chilometri da Civitanova Pescolanciano a 8 chilometri da Civitanova ma che deve uscire per Risernia per raggiungere Campobasso quindi deve percorrere un tratto di oltre 80 chilometri e in un periodo in cui comunque le condizioni anche economiche della regione sono notevolmente cambiate quindi anche le difficoltà di molte famiglie raggiungere Campobasso vuol dire anche consentire ai giovani di raggiungere l'università. L'auspicio del sindaco di Civitanova ma verosimilmente di tutti i sindaci e i cittadini dell'area è che questa opportunità non vada persa. Noi speriamo che si riesca a risolvere quello che a quanto pare almeno al momento rimane un problema di natura burocratica perché i lavori che ci sono stati almeno indicati non sono di così grande entità. Allo Stato dell'arte tutti attendono una risposta quindi dagli uffici regionali compreso il commissario straordinario per la Fresilia Gavino La Storia. Il tempo a disposizione è pochissimo e qualora venissero persi i fondi la ditta già incaricata potrebbe mettere in campo azioni di rivalsa soprattutto se dovessero verificarsi episodi funesti legati al trasporto di pazienti colpiti da malattie tempo dipendenti come infarto o ictus c'è da chiedersi chi se ne assumerebbe la responsabilità.